Musica Bentornati e buona giornata da Meteo One. Come possiamo vedere dall'immagine satellitare, la depressione che nei giorni scorsi ha interessato tutto il sud Italia sta lentamente spostandosi verso est. Da occidente l'alta pressione inizia a riconquistare la nostra penisola, infatti al nord si registrano già temperature estive. La ferita abbarica nei prossimi giorni andrà colmandosi anche al sud, ma con ancora la possibilità di temporali sparsi lungo tutta la catena appenninica. Ma andiamo ora a vedere il tempo sulle nostre regioni per domenica 11 settembre. Il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutte e due le regioni al mattino, qualche disturbo invece sul Salento con possibilità di rovesci sparsi nelle prime ore della giornata. Dal pomeriggio tempo in peggioramento soprattutto sulla fascia appenninica, con temporali sparsi di moderata intensità. Possibili rovesci temporaleschi anche sul settore ionico della Basilicata fin sulle coste. Il tempo invece sarà in miglioramento dalla serata. Le temperature, come vediamo dalla grafica, risulteranno in aumento di 1-2 gradi nelle massime, stazionari invece nelle minime. Il callo temporaneo della temperatura potrà coinvolgere alcune zone. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari da poco mossi a calmi. Ma andiamo a vedere che foto ci propone la nostra consuita rubrica. La fase di maltempo che ha coinvolto il litorale pugliese ha permesso la formazione di trombe marine, che vogliamo ricordare sono differenti dai tornado nella struttura, ma soprattutto come forza del vento. La foto è stata scattata nel canale d'Otranto a Santa Cesarea Terme dal nostro lettore Paolo Lacu, fotografo professionista. Se volete inviarci la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata.